Sì, ciao, sono molto molto contento perché alla fine abbiamo potuto fare una gara molto molto buona, siamo tutti una squadra che voglio fare bene, lo abbiamo fatto bene oggi, penso che questa è la strada giusta, spero poter continuare a allenarmi così con la testa bassa e continuare a segnare che è quello che mi piace. Ecco, ma è questo il vero Pescara, Seder, secondo te? Sì, sì, questo è il vero Pescara, una squadra che non mola mai, non ha mola mai, non ha mola nessun centimetro, quindi credo che questa è la strada, questa è la strada giusta, oggi tutti abbiamo fatto una bellissima partita e spero, spero che la squadra continui ad avere la stessa testa che abbiamo avuto oggi. Sì, il primo controllo è stato, secondo me, la migliore scelta che ho potuto fare lì, in questa occasione, penso che devo continuare a allenarmi così, ovviamente l'anno scorso ho avuto tanti problemi rispetto alla parte tecnica, ogni giorno provo a allenarmi, provo a migliorare la parte tecnica, il controllo, l'attacco alla porta, e penso che grazie all'allenamento ogni giorno sto migliorando. Sì, il ruolo mio, da solito, è la punta centrale, al che ho giocato d'esterno, perché il mister vedeva in me che poteva spingere sulla fascia, però il ruolo mio è sempre stato punta centrale. Grazie.